cara pierina ho finito per darti questo dispiacere o questa seccatura ma credi non potevo far altro il motivo immediato è il disagio di questa rincorsa dove non ballando e non guidando resto sembra perdente ma c'è una ragione più vera io sono come si dice alla fine della candela pierina vorrei essere tuo fratello prima di tutto perché così ci sarebbe tra noi un legame non futile e poi perché tu mi potessi ascoltare e credere con fiducia se mi sono innamorato di te non è soltanto perché come si dice ti desiderassi ma perché tu sei della mia stessa levatura e ti muovi e parli come da uomo farei io se invece di imparare a scrivere avessi avuto il tempo di imparare a stare al mondo del resto c'è la stessa eleganza e sicurezza in quello che io ho scritto e nelle tue giornate so quindi a chi parlo ma tu per quanto inaridita e quasi cinica non sei alla fine della candela come me tu sei giovane incredibilmente giovane sei quello che ero io a 28 anni quando risoluto di uccidermi per non so che delusione non lo feci ero curioso dell'indomani curioso di me stesso la vita mi era parsa orribile ma trovavo ancora interessante me stesso ora è inverso so che la vita è stupenda ma che io ne son tagliato fuori per merito tutto mio e che questa è una futile tragedia come avere il diabete o il cancro dei fumatori posso dirti amore che non mi sono mai svegliato con una donna mia al fianco che chi ho amato non mi ha mai preso sul serio e che ignoro lo sguardo di riconoscenza che una donna rivolge a un uomo e ricordarti che per via del lavoro che ho fatto ho avuto i nervi sempre tesi e la fantasia pronta e precisa e il gusto delle confidenze altrui e che sono al mondo da 42 anni non si può bruciare la candela dalle due parti nel mio caso l'ho bruciata tutta da una parte sola e la cenere sono i libri che ho scritto tutto questo te lo dico non per impietosirti so che cosa vale la pietà in questi casi ma per chiarezza perché tu non creda che quando avevo il broncio lo facessi per sport o per rendermi interessante sono ormai al di là della politica l'amore è come la grazia di dio l'astuzia non serve quanto a me ti voglio bene pierina ti voglio un falò di bene chiamiamolo l'ultimo guizzo della candela non so se ci vedremo ancora io lo vorrei in fondo non voglio che questo ma mi chiedo sovente che cosa ti consiglierei se fossi tuo fratello purtroppo non lo sono amore